A poco più di due giorni di distanza dagli arresti alla cantina di Cannetto, gli agricoltori soci rompono il silenzio. C'è bisogno di fare chiarezza su questa dolorosa vicenda, ha spiegato il socio conferitore Giuliano Pozzi, nel rispetto delle tante persone che fin dalla fondazione della cooperativa hanno lavorato con onestà. Che momento state attraversando voi, soci? Un momento molto brutto, un'immagine ancora molto negativa per l'oltre popovese, data l'altra vicissitudine, però questa cantina è una cantina molto storica e abbiamo dei grandi produttori che penso che in questo momento cercano di dare il moglie di loro stessi un grande sostegno a questo oltre popovese e anche a questa cantina in primis perché ha un nome e un nome bisogna tutelarlo. Molti appunto gli agricoltori soci, circa oltre 270 dicevamo prima, alcune sono piccolissime realtà, altre invece vivono proprio di questa attività di agricoltura, insomma sono momenti difficili. Che fa molto di spiacere a quei piccoli produttori, che io sono già vecchio ma ancora quelli più anziani di me, che arrivano con questi piccoli trattori con 20 o 25 ceste d'uvano che portano il loro fiore accudito in un modo meraviglioso, più che meraviglioso perché magari fanno ancora i trattamenti con la macchina in spalla o con lo zolfo, con quelle cose lì. Quindi vedere in queste condizioni qua la cantina che l'hanno vista nascere e loro sono i soci fondatori, penso che se non gli viene un farto ci manca poco. Si deve cambiare rotta, ripeto ancora, grazie ai nostri giovani che stanno dando un'impronta positiva nell'oltre popovese.